Tutti dalla prossima competizione importante vorranno l'Italia presente perché quando gli italiani veramente si mettono a gufare viene fuori un disastro e sono uscite tutte le squadre più forti, manca solo la Francia, secondo me se ci concentriamo un attimo potremmo arrivare anche a questo e invece credo che la Francia alla fine arriverà in fondo perché ha un grandissimo CT che ho avuto la fortuna di avere come allenatore la Juventus e poi ha una squadra di un talento e di una classe incredibile e quindi penso che la Francia sia la più seria candidata a vincere questo mondiale visto che il Brasile è uscito.